Per Piazzo Pardi, già metti fu in linea, tui lì in macchina opportuna, l'opinione ti ha? Eh, io non ho avuto il primo ministro lì, io non ho avuto l'occasione dell'esempio, però se c'è un problema, io ho la pressione con l'educazione, per esempio, non ho l'opportunità, come l'azione ti ha, ma la scuola è passata un po', non sai? Allora, quello è l'opportunità, e quindi ho la classifica, che è l'ademia europea. Ecco. E ti pensi, a volte, 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 invece. Ecco. Esa bella, lìtti diktar, xo' għal biex temman iġiħadik il-ħaġa? Ima, isa, jena naqtab illi diktar ħaġa importanti, u naqtab li muxa tiġrib iżeta, għumalta, ija, illi l'educazjoni ta' għana, ta' għana, għana ta' għana, għana ta' għbal. Il-kola educazjoni fej nismu iz buħija lì nittħaltu, iz buħija tal-multikulturalizmu. 1 lkta boku qgħ lì, ugħana għ ornaments nie daġi għalla, citsi maħi qgħużie ni, jmtujaq il-ħan il centro del detenzioni 800 anni fa alissa il ma' affousi e' questa chafferra hanno come tasso i locali all'familia davanti sono parte una chafferra ma la chafferra è capire la chafferra Catello romi! Mada... 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 Jarkon... ...SEYAT... ...FI L-ESKOLA TAL KINESIA O... YITLA BIL-BUOLZA EKE... KENKOL L-GRU' RUGLE UL-LOCHTO M-DAHNU WAGUGL AX NEMNU LILL-LAAQWA AX NEMNU LILL-LAQWA AX NEMNU LI-LAQWA AX NEMNU YxitAR